Ciao a tutti, ciao, ciao, il nome devi dire, Daniela, noi bellissimo, bene bene che siamo adesso è un po' di moda che l'abbiamo persa qua, sì, va bene, meraviglia, perfetto, che meraviglia, mi piace per morire, guarda, sì, sì, vai vai, 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 sei che bello, che meraviglia, vai, 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 meraviglia che stanno facendo quei due là sotto, meraviglia, sì, meglio, l'altra dove sta, io sono felicissima, è una delle cose più belle che non abbiamo mai fatto, guarda, Siamo in un po' di flomma, che cosa fantastica, ci mandiamo proprio noi, ci giriamo, ci giriamo, ci facciamo un po' di nasciolotto, sì, Amore, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, è bello, è bello, è bellissimo, 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 è André? André? Andréa? Guarda! No, devi solo guardare adesso. Quando stai qua, fai il solito pompaggio, capito? Come ne vado di là. Ciao ciao! Fa il pompaggio! Ma la termica non si vede, ovviamente. Tu la senti all'improvviso che ti porta su. Ma quando la troviamo, bella vicinissata, di solito è sempre importante su, cominciamo a girare. E passo in su? Alla questa che senti adesso è il termo di acqua. Ok. Immagina come questo grande scoglio arriva l'acqua del mare addosso allo scoglio e noi saliamo sulla schiuma dell'acqua. Quella è la dinamica. Ok. Ma invece adesso andiamo a cercare le termiche. Ok. Però di solito quando arriva il vento, in questo caso le termiche... Non sono dritte? No, non ci stanno. Perché le termiche le devi immaginare come una bolla di sapone. Ora, se una bolla di sapone è costita da una correntina... Si sposa? No, si sguaglia. 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 Yann Kim Lo Si sguaglia. Si sguaglia. E' un monoposto in realtà. è come una macchina da gara, una macchina per formati, poi anche lì ogni vela è diversa. Può essere più o meno per formati. Più o meno per formati. Ci sono vele da gara, ci sono vele basiche, si classificano le lettere dell'alfabetola alla A fino all'XXX, che non è una roba porno ma... No, non sempre le lettere almeno, porno qua sopra, io tutto è possibile nella vita però insomma... ...diciamo che è una situazione, diciamo, incitante. Quando vuoi una vela da gara, dico un XXXX, è abbastanza incitante, anche perché non stai mai nero. Non è come questo, perché non faccio niente, faccio solo il peso del corpo. Adesso sto andando a cercare quelle termiche avvicinano ai ripieni, perché vado a sfruttare quella che era termodilatica. Senti? Sì, sì. E nel frattempo, che si trova la termodilatica, ho anche la sensazione... L'importanza proprio che si crea vicino a questo venturi, perché man mano che mi avvicino a questo venturi, venturi è questa specie di murio che viene qui. Sì. Esatto. Qui l'aria, sul canale. Ci porta sul canale. Ah, questo canale, questo è il canalone chiamiamolo. Praticamente, la maggior parte dei voli, sono dei voli che devi fare in modo virtuale, perché devi ragionare dove si trova l'ascendenza, capito? Sì. Certo, quello che dovrei fare. Sì. Certo. La rascendenza di solito si trova nei posti che si scaldano. Poi, se ci sono dei prati verdi o dei boschi, lì avremo un pochino meno attività. Ma se ci sono dei punti in cui c'è un parcheggio, oppure c'è, che ti devo dire, un asfalto, un parcheggio, cioè un parcheggio di macchine che scaldano molto le lamiere, no? Sì. Ah, quindi già quello fa... Ma anche gli stessi campi, vedi quei campi laggiù, no? Sì. A mezzogiorno quei campi, quei marroni, sono molto più caldi del campo accanto che ha fatto verde. Certo, il campo verde. Ho sentito la termica, non la senti, ma tu la senti. No, ho sentito che, come se ci, non ti posso dire, se ci... Un'onda che ti viene un pochino più su. Si sta, adesso, si sta sganciando qualcosa dal vaso, sento che il vento arriva al punto che ci sono. Ma vedi che mano a mano mi c'è, non prendiamo il costone, la pressione dell'aria non esce, non c'è, 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 non c'è. Andiamo a vedere... Se ci rialza. Le ghiome degli alberi, se si muovono, quindi adesso siamo spinti con il vento al sedere, e allora mi diverte da qua, è difficile. Ma nel momento in cui vediamo le ghiome degli alberi, possiamo immaginare che lì c'è, non c'è. Adesso, eccola, qualcosa si sente, non so se sia quella, ma... Adesso, adesso guarda. Adesso, guarda. Adesso, guarda. Adesso, guarda. Adesso, guarda. Sì, sì, l'ho sentita. Adesso non altro la riconosco. Adesso, praticamente, stiamo sospando su questi ventarozzi, che ci richiamano aria. Adesso la maggior parte di tira che si sta riappicinando. Adesso invece ce ne andiamo fuori. Vediamo. Adesso, di solito, bisogna stare al baccate al piccolo, ma non stare in generale di questo, così questo sta salendo. Sì, 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 lo vedo, lo vedo. Quando vedi una vela che gira, è una vela che, praticamente, ha trovato una scendenza. Vedo che sono il mano che mi allontano, col bario di sfondo. Questo. Ritrimpiamo tutto. Che bello, che bello. La mano che scendiamo, andiamo fuori, qui si salda. Perchè, diciamo, nelle tue esperienze italiane e non, qual è stato i tuoi più belli, sui deserti, sulle montagne, sui mare, dove? Io faccio vedere. Io partecipo alle cariche. Eh, no? I cariche italiane, insomma, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro. Diciamo che i territori più belli sono quelli dolomitici, perché le montagne, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro. Questa scendenza. Che poi segue. Seguo, io l'ho ripresa adesso, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro. Seguo il flusso dell'aria. Senti, senti. A番ato Órraquio, io posso salutare. Ciao? Ciao! Ciao! Grazie! Grazie.